Buonasera, sono Susanna di Officina di Cittadinanza e stasera siamo qui con Maria Santuzze. Maria, di che cosa ti occupi? Insegno Matematica e Fisica alla Scuola Superiore. Ok, e come mai le motivazioni di questa scelta? È un lavoro che mi piace, mi diverto un sacco, quindi l'ho proprio scelto. Ok, e durante il tuo percorso quali difficoltà hai incontrato? Io ho avuto un percorso abbastanza lineare e l'unica difficoltà è stato dover aspettare un anno per il corso di abilitazione all'insegnamento. Per il resto sono stata fortunata. Ok, e adesso a questo punto della tua vita ti senti soddisfatta del tuo percorso, delle tue scelte? Sì, io sono soddisfatta del mio lavoro, sono ancora agli inizi e per cui sto ancora sperimentando, però è una scelta che rifarei. Ciao! Ciao! Ciao!